In questi giorni sui giornali locali e anche forse nazionali si legge di grande bagarre per l'approvazione dello statuto regionale, addirittura abbiamo letto che si paventavano le sue dimissioni, cosa si dice? Siamo ancora in alto mare, era fuori sto benedetto statuto regionale, cominciamo? Io ripeto sempre che siamo a un passo per farlo in maniera definitiva cominciamo a un passo per ripetere la figuraccia del 2004. Il lavoro fatto dalla Commissione è un lavoro egregio, lavorato con grande spirito di collaborazione da parte di tutti, maggioranza e minoranza, tutte le forze politiche hanno contribuito a mettere insieme un lavoro importante e positivo sia per lo statuto che per il lavoramento che per le leggi elettorali. Nell'ultima riunione che abbiamo fatto, quando è il momento di chiudere, abbiamo annusato un atteggiamento che tendeva a ritornare quello che avevamo già visto sette anni fa. Se questa fosse la trasposizione al lavoro in aula non sarebbe una risposta positiva al senso di responsabilità che dobbiamo avere, ma una dissoluzione della nostra istituzione, in particolare del Consiglio regionale. Per questo ho ritenuto di rimettere a disposizione del Presidente del Consiglio il mio mandato di Presidente per segnalare che è meglio parlarci prima, dirci chiaramente quali sono i problemi piuttosto che trovarsi in aula in una condizione di contrapposizione frontale. Devo dire che a fronte di questa è stata convocata urgentemente una riunione di capigruppo, i capigruppo hanno assolutamente ritenuto di continuare il lavoro fatto bene di mandarlo per l'aula, quindi la Commissione è stata convocata già per lunedì prossimo. Credo che dovrebbe essere la giornata in cui può esserci qualche ulteriore battuta di riflessione, magari utile, ma potrebbe essere lunedì subito a ridosso che licenziamo insieme lo Statuto il regolamento e la proposta per la Commissione della legge elettorale. Io spero che sia così, le dichiarazioni fatte dai capigruppo nella riunione di mercoledì è stata in questo senso. Mi auguro che questo possa avvenire. Aspettiamo una nuova idea allora. Aspettiamo la prossima riunione della Commissione del Statuto e anche la politica è fatta anche di tante dichiarazioni, di tante cose, vediamo quello che succede in questi giorni. Grazie Presidente. Consigliere Lucio Tiozzo, in questi giorni purtroppo leggiamo sulla stampa locale non solo, tutta una serie di problemi per la nascita di questo benedetto Statuto regionale che è di parcheggiato ormai da tantissimi mesi, sembra l'ultima regione d'Italia a doverlo approvare. Addirittura sono state paventate le dimissioni del collega Carlo Alberto Tesserin che è il Presidente della Commissione del Statuto. A questo riguardo, lei come Presidente della minoranza, Vice Presidente della minoranza? Credo che Carlo Alberto Tesserin abbia ragione. C'è un problema di affinare il rapporto all'interno della maggioranza. Un giorno il PDL dice una cosa, un giorno dopo Zaire viene in consiglio e ne dice un'altra. Il tema grande è che si possono abbattere i costi della politica riducendo i consiglieri regionali come abbiamo proposto, ma anche riducendo il numero di assessori esterni al Consiglio. Zaire è venuto pochi giorni fa in Consiglio, l'ha sparata che bisogna abbassare i consiglieri, però non ha parlato del numero di assessori esterni che invece vuole. Allora bisogna essere corretti, bisogna lasciare lavorare il Presidente Tesserin e la sua commissione, che vengano in consiglio. Il tema mio è che si chiuda lunedì l'ultima commissione, si chiuda sia il regolamento che lo statuto che la legge elettorale, si venga in consiglio e lì vedremo esattamente quali sono le forze che vogliono dare finalmente uno statuto, un regolamento, ma anche una nuova legge elettorale. Voglio precisare che per noi è fondamentale che venga tolto, per esempio, la possibilità di essere eletti in un listino di privilegiati come veniva nel passato, la maggioranza si portava da 6 a 12 consiglieri senza essere messi al vaglio dell'opinione pubblica. Questi erano consiglieri che rispondevano sicuramente al capo. La maggioranza non vuole toglierli, questo è il vero scoglio. Noi li spediamo a venire in Consiglio regionale, so che Carlo Alberto Tesserin è d'accordo con noi, quindi spesso è costretto al gioco delle parti, magari di dare anche qualche responsabilità all'opposizione, ma lui sa benissimo che noi vogliamo votare statuto e regolamento molto velocemente. Quindi speriamo che nasca questo statuto? Sarebbe la vergogna che dopo 10 anni, 11 anni di lavoro, primo per il lavoro importante fatto da Carlo Alberto, credo sarebbe una bella soddisfazione in questa sua legislatura, chiudere questa importante parentesi che darebbe delle regole nuove al governo del Veneto, avremo uno statuto che risponde alle sfide nuove che dobbiamo portare avanti dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, ma soprattutto anche un funzionamento più obiettivo all'interno del Consiglio. Io sono contro la strumentalizzazione anche da parte di certa sinistra, di certa opposizione al Consiglio quando la si tira troppo lunga e non si dà la possibilità alla maggioranza di poter governare come gli elettori hanno permesso attraverso il voto. Quindi creiamo un'opposizione forte attraverso i contenuti, questa è la sfida che noi abbiamo di fronte. Va bene, grazie consigliere. Grazie a voi.